profında profunda A yes Indovinate da cosa mi sono vestito per l'occasione di Pasqua Sì, mi sono vestito da coniglio, non so il motivo, però una cosa è certa, l'uovo merita. Beh ragazzi, prima di iniziare il video, che in questo caso comprende il secondo episodio di Prova a non ridere Challenge, vorrei dirvi buona Pasqua a tutti e per quanto riguarda l'uovo di Pasqua non fatevi domande perché io non ne so un cazzo. Allora, voglio dirvi perché ho preso l'uovo di Miraculous, praticamente io era più o meno una settimana fa, sono andato nel negozio per appunto prendere l'uovo, perché in questo caso il mio era dei bauli, volevo prendere quello dei bauli, perché cazzo mi avete dato quello dei Miraculous, cioè che problemi! Quindi, praticamente non c'erano le uova dei bauli, ovviamente insieme a mio padre perché sono andato con lui, mi scusi ma dove stanno le uova dei maschili o anche quelle dei bauli? E' il tipo, le abbiamo finite! Vabbè comunque, io ho detto, eh vabbè papà, allora non fa niente, prendiamo l'uovo di Miraculous, cioè altrimenti chiamo durante Pasqua. Allora, ho detto, va bene, allora abbiamo preso questo, è il tipo, boh. E raga, qui peggio? Ma manco Lupin fa queste entrate di effetto esagerato, così, cioè se... Ah ma è viva, io pensavo che era un giocattolo! Ma con che fisica, questo ha una rana in casa? Tra l'altro, ragazzi, questa è la versione di Shrek femminile. Nooo! Oh, povero cane! Ah, due foche con un battimento tra foche! Sì, ma ancora no! Nooo, no, no, per favore fatevi la riporca! Selena, vieni un attimo qua che devo far vedere una cosa. Selena, dobbiamo, devi assolutamente vedere questa cosa perché è troppo bella. Tra l'altro, ti sediti, accomodati, vedila. Avevo fatto soltanto metà di questo, di questa prova a non ridere, che questa è la parte che mi ha fatto più ridere di tutte. E direi che possiamo benissimo continuare. Porca! Qua mi sa che morirà, però c'ho questo... No, vabbè, raga, io... Attenzione, salto olimpiaco? Manco, manco agli olimpiadi fanno sti salti. Questa è da fottute olimpiadi. Ma che... Vabbè, lui... Attenzione, salto mortale! Ma oggi comprende tutto olimpiadi, sta provando a ridere challenge. Guarda, il lancio della palla, che però la prende nelle palle, perché è a tema bolla, quindi... Oh, shit! Cosa fa? Oh, madonna, santa, che male! Ragazzi, quanto sembra il tipo di go faster! Allora, è leggermente dato una capata contro il pallone, non so se te ne sei accorto. Oh, raga, ma Bruce Lee ci fa una pitta! No, vabbè, raga, quando vuoi essere gentile con un cammello, lui ti ringrazia così! Olimpiadi di un canale allettatore! Ma adesso pure violenza su... Violenza! E masturba dentro sui cani! Ragazzi, il video è finito. Scusate se è durato un po' poco, ma vi auguro comunque buona Pasqua! L'ho fatto più ironico, come avevo promesso nello scorso episodio, tra l'altro, è... Nel video di Selena... Allora, il video che ho fatto, quello, la prova a ridere challenge scorsa, ovvero questa qui, vale 78 views e 13 like, vale solo Selena Gomez in copertina, ma com cavolo è possibile? Vabbè, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo in un prossimo video. What's up, guys? Ciao!